La piante che sono sane Bisognerebbe prendersi cura delle radici di una pignata fin dalla germinazione e continuare sino alla vendita Coltivare con il sistema AirPot garantisce radici fibrose, sane e non spiralizzate che promuovono una crescita più rapida riducendo il tempo di produzione di un albero per la vendita Le piante prosperano più a lungo nei vasi AirPot In questo modo i produttori possono ridurre il numero di trapianti necessari per far arrivare le piante alla misura desiderata per la vendita Questo riduce il costo del lavoro ed i tempi di produzione, aumentando i margini Le radici che hanno ricevuto disturbi costantemente fanno bene il loro lavoro e la differenza nel tasso di crescita è notevole Il sistema funziona bene con ogni specie, in ogni clima ed è utilizzato dalla produzione di fruttiferi alle siepi Dalle conifere alle latifoglie Dalle palme ai meloni Piante cresciute in AirPot si trovano anche nei garden centers Distinguendosi per il vaso e per la qualità dando confidenza al cliente di aver acquistato il meglio I vivaisti con esperienza capiscono che con il sistema AirPot si consegnano piante in salute, si hanno dei clienti soddisfatti e i profitti aumentano I vivaisti A presto